Ciao sono Cristian di Play Lover, Cristian sono io e Play Lover Academy è tutta l'organizzazione messa in piedi in questi anni che aiuta uomini e ragazzi a migliorarsi con le ragazze quindi imparano a conoscerle in pieno giorno per strada piuttosto che in libreria eccetera eccetera oppure in discoteca la sera oppure le persone si rivolgono a noi perché hanno delle situazioni da risolvere vogliono migliorare nella chat e quindi fanno le consulenze a distanza oppure in ultima analisi vogliono vedersi un video corso su uno specifico argomento e quindi lo comprano da noi ok quindi tutte queste cose che abbiamo deciso di fare a pagamento la messa parte le persone lavora tranquillamente gratis Play Lover voleva essere diversa e ha deciso di farlo a pagamento chiaramente scherzo ma neanche tanto perché le persone a volte non comprendono che questo per noi è un lavoro e non è perché avevamo del tempo del budget a investire così 500 mila euro di tasse da pagare a giugno e quant'altro allora altro tema che abbiamo già toccato ma ho deciso di aggiungere una sorta di seconda parte perché è molto delicato ok tra l'altro è stato proposto la nostra community youtube e ho detto caspita però questo tema molto spesso è un ostacolo per le persone cioè le persone ci sbattono la testa contro ergo facciamoci un altro video su questo tema perché è molto dedicato quindi cosa fare con una ragazza quando è ancora legata all'ex cosa fare con una ragazza ancora legata all'ex e quindi questa la chiamiamo parte 2 partiamo da un assunto tutto quello che tu fai per lei risulta essere poco efficace e pervasivo perché lei ha la testa impegnata quindi la sua testa è impegnata di conseguenza azioni inefficaci quindi ragazzi è inutile che voi fate di tutto per la ragazza in questione assolutamente controproducente perché è come se voi andaste addosso un muro e rimbalzaste che vado addosso rimbalzo vado addosso rimbalzo ancora più forte ma non riesco a buttare giù il muro prendo la rincorso torno indietro ok perché lei ha la testa impegnata lei sta pensando al suo ex non sta pensando a te magari poi c'è stata una reazione di 5 6 7 anni a chi vuoi che pensi sta ragazza la reazione finisce l'oggi domani è ovvio che lei pensa a lui normale sì quindi andiamo a vedere altri errori che non sono da fare in questa situazione errori uno strafare quindi in qualche modo iniziare come fanno tantissimi uomini quindi i regali i fiori le lettere i pacchi i soldi perché come sapete ci sono un sacco di uomini che danno anche soldi continuamente e costantemente ad alcune ragazze e quindi in un qualche modo non serve fare questo tipo di azioni perché abbiamo detto che lei ha la testa impegnata quindi strafare esagerare sin da subito comunque cercare di catturare la sua attenzione con queste modalità non serve io lo dico a chi lo fa ragazzi ma anziché buttare via migliaia e migliaia e migliaia di euro la so per certo perché appunto la ragazza con cui mi sto frequentando io riceve sbalangate di regali di soldi e quant'altro cioè se voi chiamate noi 894 14 16 noi vi spieghiamo come risparmiare dei soldi e anziché buttarli qua li date a sottoscritto ok e quindi voi risparmiate e ottenete anche di più cioè brutale come concetto però vi dico che funziona quindi ragazzi non pensate a esagerare in questo senso perché non vi porta a nessuna parte in questo momento la ragazza non è ricettiva 2 starle addosso quindi scriverle in continuazione chiamarla ogni giorno mandarle continui whatsapp audio su telegram commentare le storie commenti su facebook eccetera eccetera ma caspita ma hai una vita hai un qualcosa da fare durante il giorno oppure sei completamente disoccupato e non hai nulla da fare se tu tutto il giorno stai addosso alla ragazza la percezione che lei avrà di te è che non hai null'altro da fare ok quindi scende il tuo appeal ai suoi occhi fai attenzione perché tantissimi soggetti pensano che con l'eccesso di premura possono conquistare la ragazza che è ancora legata al suo ex no perché le tue premure lei non le percepisce anzi sente il fiato sul collo ok perché loro pensano vabbè io la prendo in un momento di debolezza se do tanto conforto è mia no no anzi rischi addirittura di diventare il suo amico oltre che stare addosso quindi la musica è un po diversa da quella che pensi di ascoltare tu 3 cercare di convincerla terzo punto cercare di convincere la ragazza in questione a parole mi viene quasi da ridere non potete assolutamente convincere le donne a parole l'unico modo di motivare stimolare una donna è attraverso comportamenti emozioni curiosità eccetera eccetera non potete assolutamente pensare di portare nella vostra vita una donna per effetto del convincimento a parole c'è proprio follia ok follia questa possiamo definirla follia ergo non provate neanche a mettervi lì a farle capire ragionare che voi siete meglio del suo ex che la trattava male che la menava che le dava quattro schiaffi eccetera eccetera lei non capisce in quel momento queste cose non può razionalizzare ok ha troppa ha troppo la sua testa troppo impegnata dalle emozioni magari negative date dal distacco con il suo ex partner cosa fare uno rimanere nei dintorni della sua vita è ovvio che prima o poi come dire la ragazza andrà a diluire queste emozioni negative per lasciare spazio a qualcosa di nuovo nella sua vita perché perché la vita va avanti la vita va da un punto inizio che è nascita ad un punto di fine che è la morte chiaramente a volte ci lasciamo alle spalle degli eventi negativi per andare avanti e far sì che arrivi qualcos'altro di positivo ok quindi la ragazza prima o poi apriranno nuovamente la porta a qualcuno e noi dobbiamo essere lì pronti magari controlliamo le sue storie vediamo dove va cosa pubblica cosa scrive whatsapp eccetera le scriviamo ogni tanto e quando è arrivato il momento di dire farsi sotto noi arriviamo siamo pronti però ecco bisogna rimanere nei dintorni della sua vita in maniera tale che riesco a captare i cambiamenti i suoi stati d'animo la sento le scrivo la chiamo ogni tanto e rimango lì ecco un po in attesa è ovvio che sono in attesa ragazzi lo dico perché sembra quasi a volte che dico una cosa ma se stai lì poi arrivo qualcun altro sì può essere che arrivi qualcun altro magari riesci in un modo ad agganciare la ragazza meglio di te e se la porta via può essere può essere quindi non vi dico che siamo esenti da rischio anzi il rischio c'è però fa parte del gioco due comunicazioni intermittente comunicazione intermittente allora comunicazione intermittente intermittente è la parola chiave ok perché perché io non posso pensare di avere qualcosa di costante con questa ragazza perché perché non posso starle addosso ok se io sono sempre costante sono scontato sono la spalla su cui piangere abbiamo detto un altro video in un qualche modo la ragazza si sta anche diventiamo un amico per lei per cui devo esserci ma non esserci scriverle ma fare silenzio ok chiaramente devo tenere un po i contatti perché altrimenti il rischio di uscire dalla sua vita ma non posso essere ogni presente nella sua vita non posso essere sempre lì ok io non posso pensare di vivere una vita in un qualche modo dipendente da lei e sempre a supporto di lei ok quindi devo cogliere le informazioni devo sentirla devo tenere i contatti però non posso esagerare ok terzo ultimo punto incontrata fisicamente fisicamente questo tema è fondamentale perché due persone che non si vedono rischiano poi di non sentirsi più ok per cui è un aspetto cruciale tra tra l'altro l'avevo detto anche nella prima parte escici saltuariamente forse avevo detto qui sto dicendo incontrata fisicamente perché se io tengo una comunicazione intermittente ci devo poi agganciare un incontro fisico chiaramente saltuario quindi contra fisicamente e saltuariamente saltuariamente però in un qualche modo devo tenere come dire aperta la possibilità di vederla perché se passano tanti mesi tante settimane la ragazza un certo momento potrebbe dire bene ok ma perché io dovrei uscire con te è arrivato un ragazzo ad esempio che mi piace mi interessa eccetera esco con lui non con te quindi l'aspetto fisico e materiale deve esserci ok lo ribadisco anche in questa seconda parte perché è proprio il pilastro che tiene un po in piedi tutto in quanto nel momento in cui due persone non si vedono più in automatico non si sentiranno più ok motivo per cui molte reazioni a distanza finiscono per morire perché perché manca la componente fisica e materiale come già detto le relazioni umane non possono andare avanti con videochiamate skype go to meeting zoom e quant'altro qui si chiamano incontri di lavoro le reazioni umane sono fatte da emozioni e per viverle bisogna esserci fisicamente qui da christian è tutto per questa lezione